Sì, ho trovato un lavoro lì. Sono agronomo, ma qui non sono mai riuscito a fare il mio mestiere. In realtà sarei dovuto partire la settimana scorsa, ma a me è venuta paura. Ogni momento trovavo una scusa per non partire. Una sera ho preso una sbronza colossale che la mattina dopo non stavo in piedi e quindi ho rimandato. Poi ho passato un'intera giornata con la signora Nitti a sistemare la sua caldaia. Poi addirittura ho deciso di accompagnarla al santuario di Padre Pio. Pensavo che volessi visitare il santuario, invece è andata soltanto per accendere un cielo per me. Dici che ne ho bisogno, giuro. Mi ha fatto venire in mente una storia di certi russi che volevano scappare dall'Unione Sovietica e mettevano da parte un bel po' di soldi per un po' di tempo per comprarsi un biglietto aereo. Quando finalmente riuscivano a comprarlo andavano a ubriacarsi con gli amici, così, per festeggiare anche un po' perché gli veniva la malinconia, magari non si sarebbero più rivisti. Solo che l'indomani mattina non riuscivano a svedersi in tempo e allora prendevano l'aereo e dovevano ricominciare da capo. Tu, invece, parti.